La medicina basata sul valore, che vuol dire una medicina orientata non alle prestazioni erogate in quanto tali, ma ai risultati che queste prestazioni in termini di salute producono sul cittadino e sulla popolazione generale. Quindi il tema più che mai attuale della centralità del paziente, dell'efficienza organizzativa del sistema, della qualità delle cure, quindi dell'efficacia delle stesse cure, orientato poi in particolar modo al tema più che mai attuale della cronicità, della presa in carico del paziente cronico, cronicità che assorbe la gran parte delle risorse sanitarie oggi messe in campo dai governi e dal governo italiano. L'altro tema affrontato è stato quello del progressivo definanziamento del sistema che mette a rischio l'esistenza stessa del Servizio Sanitario Nazionale e che quindi mette a rischio quelli che sono i diritti fondamentali delle persone, quali il diritto alla salute, l'equità dell'assistenza sanitaria e quindi l'equità sociale, che vuol dire garantire a tutti il diritto alla salute e conservare il carattere universalistico del nostro Servizio Sanitario Nazionale che rappresenta la più grande delle conquiste sociali ad oggi ottenute. Tra gli interventi va certamente ricordato quello del nostro Presidente regionale Michele Emiliano e del Direttore Generale dell'Ares Puglia Giovanni Gorgoni che ci confortano per certi diversi perché ci confermono la sensibilità da parte del Governo regionale rispetto alle tematiche più calde del Servizio Sanitario regionale che sono la presa in carico del paziente cronico e il ridisegnamento del sistema con un forte orientamento soprattutto appunto all'assistenza territoriale e all'assistenza primaria. L'ospedale è un luogo per la cura delle malattie acute ma per tutto il resto c'è bisogno di una rete ed è questo l'oggetto del convegno fatto di strutture territoriali, medici di famiglia, ospedali di comunità, pediatri di famiglia che devono raccordarsi con la struttura ospedaliera, con le strutture di lungodeggenza e per malattie croniche, per la gestione anche dei pazienti più anziani e tutto questo evidentemente ha bisogno di un modello, di una mentalità che ancora probabilmente non esiste ovunque in Italia e va formata. Quindi è importantissimo che la Bocconi di Milano assieme a tanti importanti medici e in generale esperti di organizzazione sanitaria e delle professioni sanitarie stiano costruendo i primordi, gli elementi fondamentali di questa nuova scienza che è flessibile, armonica, è capace di costruire un'offerta sanitaria personalizzata sulle esigenze del paziente e non più evidentemente sulle esigenze dei baroni o delle persone importanti della sanità che un tempo influenzavano ogni scelta, da quelle universitarie a quelle organizzative. Adesso al centro di questo schema vanno messi i cittadini che sono quelli che pagano le tasse e che quindi hanno diritto di essere considerati come il soggetto più importante di tutto questo mondo. Abbiamo sintetizzato appunto quello che negli ultimi anni l'SSN è riuscito a garantire, quindi prima di tutto una riduzione dell'ospedalità, quindi con una riduzione dei posti letto e conseguentemente anche dei ricoveri ospedalieri, che ha permesso di trasferire in setting ambulatoriale tutta una serie di prestazioni. Allo stesso tempo sono stati anche sviluppati dei nuovi setting dal punto di vista assistenziale, pensiamo alle case della salute in Emilia Romagna e Toscana, così come anche ai PTA qui in Regione Puglia, che hanno permesso di migliorare l'assistenza dei pazienti cronici soprattutto. D'altra parte siamo riusciti anche a utilizzare meglio il potenziale informativo dei big data, e quindi la tecnologia da un certo punto di vista, soprattutto leggendo in modo retrospettivo i consumi dei pazienti cronici analizzando i database amministrativi. Abbiamo sviluppato anche dei modelli associativi della medicina generale che ha permesso di dare una risposta continuativa ai bisogni dei malati cronici. In più abbiamo sviluppato delle specifiche interfaccia, quindi delle interfacce che permettono di supportare il paziente cronico nel suo percorso quotidiano. D'altra parte dove però rimangono dei gap da riempire, prima di tutto bisogna dare una risposta più concreta all'integrazione, fa bisogno di integrazione che vengono generati tra l'ospedale da un lato, il territorio e gli altri setting. In più bisogna dare una risposta alle esigenze dei pazienti dal punto di vista di un'assistenza continuativa soprattutto in ambito di case management e infine dobbiamo riuscire a integrare i dati con altre fonti quali i dati sociosanitari, la strutturazione dal punto di vista familiare che permettano di inquadrare meglio i profili di bisogno dei assistiti. Il nostro è un sistema sicuramente sobrio dal punto di vista delle risorse ma è indubbio il fatto che il nostro sistema sanitario garantisca dei outcome dal punto di vista della salute tra migliori a livello mondiale. In realtà però dietro questo risultato generale c'è una fotografia con diverse velocità quindi quello su cui dobbiamo lavorare è cercare di far sì che sistemi che sono più virtuosi hanno iniziato prima ad adottare alcuni strumenti innovativi permettano di tirarsi dietro e trainare anche quei contesti regionali specialmente nel centro e nel meridione del nostro paese che sono più indietro su alcune tematiche e alcune sfide. Noi come osservatorio cure primarie del CERGAS da Bocconi abbiamo approfondito molto il concetto di integrazione della presa in carico della cronicità e il nostro intervento ha avuto proprio come oggetto la presentazione delle principali riflessioni che nel nostro processo di ricerca all'osservatorio cure primarie abbiamo approfondito nel corso degli ultimi tre anni. Abbiamo identificato quattro principali mattoncini, quattro principali pilastri su cui a nostro avviso è necessario lavorare per integrare le cure primarie e la cronicità nel suo complesso. Il primo riguarda la patient experience, cioè la percezione che il paziente ha del proprio percorso di cura e questo secondo noi è molto molto rilevante perché rappresenta un driver di appropriatezza, aiuta a migliorare la logistica sanitaria, il percorso del paziente all'interno dei vari setting assistenziali migliorando quelli che sono i suoi consumi e gli outcome di salute. Il secondo elemento su cui secondo noi dobbiamo lavorare per migliorare l'integrazione della presa in carico della cronicità riguarda i PDTA, uno strumento di gestione di governo clinico estremamente diffuso nelle nostre aziende ma che purtroppo nei nostri studi sembra presentare alcuni difetti su cui dobbiamo ancora lavorare, un maggiore orientamento alla pluripatologia e una maggiore funzionalità di integrazione tra i vari setting. Il terzo elemento che ci sembra rilevante riguarda le reti interdisciplinari che in un contesto frammentato come quello del nostro sistema vanno assolutamente presidiate e soprattutto conosciute tramite strumenti come la social network analysis che ci può aiutare in questo. Infine un sistema di incentivazione per quanto riguarda la medicina generale che cerchi di essere meno frammentato in termini di oggetto e più omogeneo anche all'interno di una stessa tipologia quindi incentivi che aiutino ad allineare le nostre famiglie professionali raggiungendo obiettivi di salute comuni. La giornata è stata molto importante ed io ho cercato di fare una sintesi dei concetti più importanti. La prima questione è che è stata detta che oggi il sistema sanitario nazionale ha bisogno di un'innovazione organizzativa non più rinviabile. Si parla sempre della frammentazione delle cure, dei silos, della mancanza di raccordo tra il sistema delle cure primarie che non è solo il medico di famiglia ma anche gli infermieri di comunità e anche il servizio sociale e anche il collaboratore di studio sono anche i farmacisti che sono sul territorio. Dicevo una mancanza di raccordo con gli ospedali di riferimento e soprattutto con lo specialista di riferimento un paziente di diabetico o cardiologico o neurologico a uno specialista deve avere uno specialista di riferimento. Ecco questa comunità di pratica, questo approccio che io chiamo di rete strutturata fra cure primarie e ospedali di riferimento è il cuore di un sistema che punta a garantire in prossimità e con la proattività, ce la richiamando attivamente, le stesse cure a tutti, a chi come noi sa di medicina e gli viene l'ipertensione nel farmaco e lo prende e chi come io dico spesso la signora Gina che non ha la patente, ha fatto la quinta elementare e l'ipertensione non gli dole, non gli fa male e quindi interrompe la terapia. Questo vale per il diabete, per la bronchite cronica, per l'asma. Insomma, un sistema che dia le stesse cure a tutti, a ricchi e poveri e, attenzione, questo sistema costerà anche meno perché naturalmente l'ospedalizzazione è la fonte principale dei costi del sistema sanitario nazionale e questo risparmio noi lo vogliamo utilizzare per affrontare la seconda grande sfida che è quella dell'innovazione tecnologica. Non possiamo negare un farmaco che può migliorare la vita o ridurre o fa sparire una malattia come è successo per l'HCV, per l'epatite C insomma. Perché costa troppo? Noi abbiamo il dovere, anche questo è un fatto di etica professionale, di garantire questa cosa. Il nuovo approccio però ha bisogno di sinergie fra tutti. Le università, le società scientifiche, le regioni devono lavorare insieme perché questo possa accadere presto, perché i cittadini ne sentono tanto il bisogno. Il mio messaggio è che il valore del sistema sanitario nazionale pubblico deve assolutamente essere mantenuto e tutelato rispetto alle politiche nazionali e regionali a venire. Rispetto alla Regione Puglia e ai processi di riorganizzazione del sistema delle cure territoriali in questo momento esiste la possibilità di portare a target un progetto ambizioso di riorganizzazione che è appunto il che è il Puglia 3.0. Un progetto di riorganizzazione delle cure territoriali del sistema pubblico che permettono in maniera appropriata di gestire la cronicità nella nostra Regione determinando non solo migliori cure, migliori risultati rispetto alla prevenzione e alla prevenzione delle malattie croniche e alle prevenzioni delle complicanze ma anche risultati economici che permettono di implementare ulteriormente il modello e di gestire nel meglio il nostro sistema sanitario regionale. L'integrazione tra i professionisti della sanità e delle cure territoriali è sicuramente fondamentale. La Puglia ha una grande potenzialità rispetto a questo perché esiste un modello organizzativo rispetto alla medicina generale che permette di gestire meglio tutte le problematiche legate alla cronicità e quindi di valorizzare al meglio quelli che sono stati gli investimenti fatti qualche anno fa rispetto all'infermiere di famiglia e ai collaboratori di studio che lavorano negli studi di medicina generale. Il passaggio successivo è l'investimento rispetto alla rete degli specialisti per garantire l'offerta necessaria per una corretta e appropriata presa in carico della cronicità. Due messaggi sono emersi in modo prepotente. Il primo è quello della necessità di un dialogo e di una collaborazione tra associazioni scientifiche e in questo ho rappresentato qui a Bari al congresso nazionale SICIP il ruolo e il pensiero della CARD nazionale che è orientato appunto a dialogare sulla necessità di addivenire fra associazioni scientifiche a modelli organizzativi condivisi e quindi alla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici che rappresentano i reali interessi dei cittadini. In secondo luogo sento di poter rappresentare quello che è il ruolo del distretto come struttura organizzativa che diventa interlocutore certo riconoscibile di quello che è un nuovo approccio a una medicina di iniziativa che sicuramente trova nel medico di medicina generale l'attore principale ma che necessita anche di altri supporti che sono appunto supporti di vicinanza, di prossimità quelli specialistici, quelli di laboratorio, quelli di diagnostica ma anche e soprattutto quelli che servono a far viaggiare l'informazione. Quindi mi riferisco alle piattaforme informatiche di cui noi necessitiamo per una nuova gestione, per una moderna gestione della cronicità. La centralità del paziente è una diretta conseguenza di questo modo di operare e di intendere la sanità in modo moderno con un approccio che è orientato ad evitare duplicazioni e quindi sprechi ad evitare complicazioni attraverso una responsabilizzazione diretta del paziente di chi lo assiste, di chi ne cura gli interessi. Il territorio così organizzato diventa il luogo ideale e alternativo all'ospedalizzazione. L'ospedalizzazione non ha senso se la cronicità viene presa in carico in maniera efficiente. Questo è il messaggio forte che viene da questo incontro tra professionisti. Questo è il messaggio che serve a dare un futuro alla gestione epidemiologica di una situazione che è ormai inarrestabile e che deve essere governata nel migliore dei modi.